Strategia e-commerce, il podcast con novità, commenti e interviste sul mondo e-commerce italiano. Come facciamo a usare i pacchi per aumentare il fatturato del negozio? Detto così sembra una provocazione, sembra quasi un po' strano, però in realtà è quello che succede. Se uso correttamente i pacchi io venderò di più, né più né meno. Quindi, il pacco che cos'è? L'oggetto di cartone che viene spedito al cliente con lo scotch intorno e l'etichetta del corriere. Allora, perché diciamo che fa vendere di più usare correttamente i pacchi? Beh, lo capiamo subito. Usare correttamente i pacchi, ad esempio, vuol dire sfruttare l'opportunità di un oggetto che gira per il mondo, gira per l'Italia e va dappertutto. Questo oggetto può farlo con il mio logo scritto sopra, può essere un bel pacco da vedere. Qualche cosa che veicola in chi lo vede il concetto che il mio brand sia un brand serio, importante, interessante, degno di essere notato. Ora, se ho un pacco di questo tipo, pensate quanta strada fa, da quante persone viene visto. Ovviamente dal corriere, ma anche da tutti quelli che vanno a ritirare un altro pacchetto nello stesso camion del corriere, vedranno il secondo pacco che è quello che voi avete spedito, piuttosto che verrà visto dal portinaio e da tutti i condomini che passeranno vicino al portinaio se è lì il pacchetto. Se arriva in ufficio verrà visto da tutti i colleghi dell'acquirente, quando arriva in casa verrà visto dai familiari e così via. Poi, oltre a questo, potrebbe essere conservato, il cliente magari lo userà per conservarci i suoi oggetti o potrebbe usarlo come scatola e di conseguenza resterà in casa del cliente per anni, ricordandogli del vostro brand. Quindi questa è la prima cosa, c'è un oggetto che va in giro dappertutto, viene visto da un sacco di gente ed è un'opportunità da non sprecare per farsi della pubblicità quasi gratis. Prima cosa quindi. Seconda cosa importante sul pacco è soddisfare il cliente, per cui ok, il primo caso fa pubblicità, potrebbe attirare nuovi clienti nel mio negozio. Secondo caso però, il cliente che ha già acquistato deve essere soddisfatto, specialmente se è al primo acquisto e deve quindi fidelizzarsi, allora voglio soddisfarlo al massimo. Cosa ho bisogno? Beh, un pacco discreto, ben fatto, perché se gli arriva in ufficio e lo vedranno tutti i colleghi e fosse un pacco con un vecchio scatolone riciclato con degli scotch brutti e appiccicati i posticci, gli altri colleghi diranno, beh, ma cosa hai ricevuto? E lui ci rimarrà male? E che avrà del rancore nei vostri confronti o perlomeno non avrà soddisfazione. Se invece arriva una cosa bella, fina e discreta diranno, guarda che meraviglia. Quindi lui si sentirà curato da voi, vedrà che il negozio ha una cura nei suoi confronti e quindi sarà riconoscente. Questo è uno degli aspetti. Poi, se un cliente ha il primo acquisto, ha un'aspettativa, non sa cosa gli arriverà e quindi vede un oggetto. La prima aspettativa la possiamo appagare col pacco che lui prende in mano. Poi lo aprirà e troverà il prodotto, però questo è importante. Quindi se è bello l'oggetto, l'aspettativa viene appagata meglio. Poi possiamo parlare di quello che contiene. Io posso usare questo veicolo, questo veicolo di contatto fisico col cliente, l'unico contatto fisico che avrò col cliente, per metterci dentro qualcosa. Posso mettere un campione gratuito se l'acquisto magari supera una certa cifra, se è il primo acquisto, come volete voi. Ma posso anche mettere un volantino che fa branding, un volantino che dice guarda il mio negozio fa queste cose e sostanzialmente cerca di coltivare nella mente del cliente una migliore idea del vostro brand. Potrei metterci dentro un volantino che fa cross-selling. Ad esempio un cliente ha comprato profumi, io però vendo anche integratori e quindi nell'acquisto di profumi inserirò il volantino degli integratori come consiglio per un acquisto futuro. Inserire un materiale, anche un biglietto da visita, qualsiasi cosa, se il materiale ha un certo feeling, ha un certo sensazione tattile fatta in un certo modo, anche qui potrebbe rinfrancare nel cliente l'idea che il vostro negozio è attento a dei particolari e si prende cura di lui, eccetera, eccetera. Quindi ecco un altro modo per cui questo pacco può farvi aumentare le vendite perché quel cliente si fidelizzerà, rimarrà fedele e quindi comprerà di più. Bene, ci sono poi tanti altri piccoli aspetti ma abbiamo toccato quelli principali. Il concetto è proprio questo. Abbiamo un oggetto che è il pacco che spedisco, l'oggetto fisico che gira per il mondo, prima fase, e seconda fase, viene aperto dal cliente. Questo oggetto, che appunto per un e-commerce ed è importante sottolinearlo, è spesso l'unico punto di contatto fisico che io ho col cliente, quindi entro nel mondo degli atomi, uscendo dal mondo digitale. Noi lo sappiamo che abbiamo un magazzino e abbiamo a gestire la logistica, ma per il cliente siamo solo un sito internet e in quel momento diventiamo concreti, diventiamo reali. E come ci presentiamo? Ci presentiamo con una maglietta macchiata o ci presentiamo vestiti bene e facendo una bella impressione? Con questo vi saluto e ci sentiamo alla prossima. Ciao!